Intanto qua ci sono già gli stand, il primo amiche della terra educazione alla campagna amica, primo agri asilo d'Italia, quindi la pedagogia con gli animali eccetera. Amiche della terra, i made in Italy nel mondo, loro per esempio producono questa buccia di pomodoro micronizzata e addirittura esportano in Israele che è la patria dell'agricoltura mondiale, quella più innovativa, quindi noi esportiamo a loro. Amiche della terra, per le donne di sociale, anche questo è molto interessante perché nell'agricoltura noi donne riusciamo a testere rapporti che poi durano nel tempo e riusciamo anche ad aiutare le altre donne. Poi ne parleremo sul palco oggi, intanto buongiorno e qui gli altri stand, quindi oggi davvero una giornata importante per noi donne nell'agricoltura, un'evoluzione importante, un passaggio epocale.